Noi siamo davanti ad un giacimento di servizi sociali destinati alla persona, la piccola opera Caritas che ha tradizione di ottimo lavoro, una bella organizzazione di competenza, una resistenza invidiabile che a volte sfugge anche alle organizzazioni pubblicissime. In ragione di questo abbiamo letto in maniera approfondita tutti i documenti, la consistenza anche di possibile contenzioso e di contenzioso in essere e abbiamo trovato un'intesa che fa soddisfatta la piccola opera Caritas e fa destinataria di convenienza la ASL di Teramo. Cessa la materia del contendere poiché riconosciamo il lavoro di qualità che è stato fatto e determiniamo anche convenienza a favore della regione e della ASL. Grazie.